Questi 20 anni sono per noi un traguardo ovviamente molto importante, siamo felici di essere qui a festeggiare la ventesima edizione consecutiva, ci tengo a dirlo. Sicuramente i numeri sono sempre in crescita e questo ci fa davvero ben sperare per la tenuta della manifestazione. Abbiamo ricevuto oltre 800 lavori, ne abbiamo selezionati 27 da 19 paesi del mondo, quindi una veramente altissima presenza internazionale. Questa festa dei 20 anni ovviamente la vogliamo celebrare con la cittadinanza, la vogliamo celebrare con il nostro pubblico finalmente in sala e in sicurezza, ma la vogliamo celebrare anche con i vincitori delle passate edizioni. Il concorso internazionale ovviamente giovedì, venerdì e sabato 18, 19 e 20 novembre al Multisala Margherita. A Cireale ha individuato attraverso Magma, ha trovato una sua collocazione precisa che è importante, ricordavo nella presentazione che il primo anno c'erano tantissimi registi che venivano anche dall'estero e quindi diventa sicuramente un luogo appetibile. È una grande vetrina, una vetrina internazionale che dà visibilità alla nostra città, ma che sicuramente è un importante appuntamento anche per tutti i nostri cittadini. Adesso se siamo giunti alla ventesima edizione vuol dire che questa edizione funziona, questa edizione piace, questa edizione è molto sentita anche dai nostri cittadini, oltre a quell'aspetto internazionale che è fondamentale perché ci dà non solo visibilità, ma ci porta anche tantissimi stranieri nel nostro territorio in quei giorni e porta sicuramente turismo. Grazie a tutti.